Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di Valeria Margherita Mosca, La natura è la mia guida. Hai mai sentito parlare di foraging? Ricercare erbe e bacche selvatiche commestibili è un'antica arte che ritorna ai giorni nostri sulla spinta della sempre più diffusa attenzione verso i cibi naturali e sostenibili che valorizzano le risorse del territorio. I nostri nonni lo chiamerebbero andare per erbe. Raccogliere cibo selvatico ora è una passione che ha conquistato anche i grandi chef. Dunque il foraging è una pratica centenaria che trova le sue origini nei paesi scandinavi e consiste proprio nel raccogliere ingredienti spontanei nel loro ambiente naturale. Cibo selvatico commestibile che poi viene utilizzato in cucina totalmente a impatto zero come recupero di alcune botaniche ormai dimenticate. In questo libro potrai scoprire quali fiori si possono mangiare, quali sono le radici più gustose, il tutto condito con una buona dose di curiosità su ciò che riguarda le singole piante. Pronto per scoprire di cosa si tratta? Leggiamo insieme alcune pagine. Buon ascolto! Fare foraging significa raccogliere cibo spontaneo in natura. E se oggi andare per boschi o campagne in cerca di radici e fiori buoni da mangiare è un'attività praticata per il piacere di riscoprire la natura, un tempo per i nostri progenitori era l'unico modo di nutrirsi e saziare la fame. Possiamo quindi dire che il foraging è antico quanto gli esseri umani. I primissimi uomini e donne esploravano l'ambiente a piedi cercando vegetali di cui nutrirsi ma persino quando hanno cominciato a coltivare le piante e allevare animali hanno continuato a mettere nel piatto anche cibo selvatico. Fino alla fine dell'ottocento, poco più di un secolo fa, i più poveri quando mancavano i soldi per comprare ciò che serviva facevano affidamento su ciò che cresceva spontaneamente in natura. Benché a persarci oggi suoni strano solo in tempi recenti l'uomo ha avuto a disposizione la grande quantità di cibo a cui siamo abituati. Quando i nostri bis o tre snonni erano bambini per molti la vita era dura, bisognava cavarsela anche andando nel bosco a cercare la cena. Abbiamo parlato di piante, sicuramente frutta, fiori, radici, foglie sono ciò che viene in mente per prima cosa a chi pensa al foraging, ma la natura è generosa e il cibo selvatico è molto vario. Funghi, licheni, alghe, linfa, semi, molluschi sono solo una parte di quello che potremmo cercare. Per riconoscere e apprezzare tutta questa varietà però bisogna essere preparati, è necessario conoscere l'ambiente, sapersi muovere al suo interno e rispettare alcune importanti regole di cui parleremo. Vi basta lanciare uno sguardo alle montagne per vedere a colpo d'occhio come tutto cambia a seconda dell'altitudine, cioè dell'altezza sul livello del mare. Più ci alziamo, più le temperature si fanno rigide. L'inverno è severo, nevica, cambia la composizione del suolo e l'esposizione al sole. Potreste vedere gli alberi cedere improvvisamente il posto a piante più basse. Ogni altitudine presenta una sua vegetazione caratteristica. In cima crescono le piante erbacee basse, resistenti, spesso tra le rocce che caratterizzano il suolo di queste zone. Sotto, nella zona intermedia, si trovano fitte foreste di acero rosso, pinomugo, larice e arbusti nani come il ginepro o il rododendro. Scendendo ancora ci sono le foreste subalpine con conifere e la vegetazione bassa che ci cresce sotto, piante erbacee e muschio. In montagna potrete vedere una grande differenza tra le stagioni. Sui prati che d'inverno sono coperti di neve, in primavera sbocceranno decine di fiori colorati. Le regole del foreging in montagna. Non stancarsi troppo, misurare e dosare le energie è importante perché dopo essere arrivati dove volevate bisogna anche tornare indietro. Concedetevi pause per snack, carica energia, frutta stecca e disidratata sono ottime. In compagnia è meglio ma attenzione alle zone dove possono cadere massi, vietato bere l'acqua dei ruscelli. Le regole del foreger. Oltre a tutte le regole c'è un decalogo da conoscere tenere bene a mente. 1. Raccogli solo ciò che sai riconoscere con assoluta certezza. Raccogli con moderazione. Se per esempio privi una pianta di troppe foglie o di tutti i suoi frutti rischi di comprometterne il benessere. 3. Informati sulle regole del luogo in cui ti trovi. 4. Se sei su un terreno privato chiedi il permesso di raccogliere. 5. Non sprecare. Raccogli solo ciò che potrai mangiare. 6. Attenzione all'inquinamento, scegli di raccogliere in zone incontaminate. 7. Scegli le piante più sane, in forma, rigogliose. 8. Comportati in maniera rispettosa nei confronti dell'ambiente che ti ospita. 9. Affronta il foreging con la giusta attrezzatura. 10. Lava bene le piante prima di mangiarle. Prima di scoprire qualcosa di più sul foreging è bene mettere subito in chiaro la regola più importante di tutte. Non raccogliere nulla se non si è assolutamente sicuri di riconoscere la specie che avete davanti. Il foreger si spinge negli ambienti più incontaminati perché ciò che poi mangerà deve essere cresciuto lontano da fonti di inquinamento. In pratica è un escursionista con particolari competenze che si ciba di quello che sa riconoscere come buono. Come chiunque si avventura nella natura deve fare attenzione a non perdersi. L'orientamento è importantissimo perché più ci si allontana da un centro abitato più diventa pericoloso perdersi. Il foreger è esperto, spesso lascia i sentieri più battuti orientandosi quindi con due importantissimi strumenti, la mappa e la bussola. Prima di fidarsi delle proprie capacità è bene esercitarsi a leggere una mappa senza allontanarsi dalle zone sconosciute per riconoscere e familiarizzare con la sua simbologia. Una buona mappa indicherà i punti cardinali nord, sud, est, ovest e la presenza di fiumi, montagne, città, strade e molto altro a secondo della mappa. La leggenda vi aiuterà a riconoscerli. Colori e sfumature vi permetteranno di capire se ci sono montagne o alti piani. Le linee di livello sono tracciate per indicare le pendenze del terreno. Attenzione alla scala con cui la realtà è rappresentata e lo strumento per farvi un'idea delle distanze. Scegliere i vestiti giusti. Quel che indossiamo fa la differenza. Prima di tutto bisogna considerare la stagione, poi il meteo che, a seconda dell'ambiente che intendiamo esplorare, richiederà un abbigliamento diverso. L'obiettivo è restare caldi se le temperature si abbassano, muoversi comodamente, mitigare l'effetto del caldo nelle giornate estive. Quando fa caldo meglio abiti non aderenti, di cotone che coprano interamente per proteggere dal sole e dagli insetti. Quando fa freddo vestirsi a strati è una buona soluzione, soprattutto se si intende stare fuori tutta la giornata. Inoltre è meglio indossare sempre scarpe comode con suolo antiscivolo e impermeabili. Non può mancare, qualunque sia la stagione ed è bene insomma avere con sé, uno zaino con acqua, cerata o giacca impermeabili, repellente per insetti, crema solare se necessario e uno snack. Che passeggiare in una foresta in inverno sia molto diverso rispetto a farlo in estate è noto a tutti. La natura cambia significamente al passaggio delle stagioni, soprattutto nella zona temperata, quella in cui si trova il nostro paese. Il momento in cui sceglierete di andare in esplorazione farà molta differenza perché nei diversi momenti dell'anno troverete specie diverse, quindi oltre a dove andrete, cioè in quale habitat, è importante anche sapere quando. Le differenze che potrete osservare mese dopo mese attraversando magari lo stesso bosco in periodi diversi dell'anno sono la conseguenza di una caratteristica incredibile e affascinante della natura. Le specie vegetali, così come anche quelle animali, si adattano ai cambiamenti climatici. Lo fanno lentamente, poco alla volta, come risposta al mutare della luce o della temperatura di stagione in stagione. Sono adattamenti continui che noi, per comodità, pensiamo come legati a quattro macroperiodi, le stagioni, ma che procedono continuamente per gradi. All'inverno, alla primavera, all'estate, all'autunno abbiamo dato una data di inizio e di fine, ma il passaggio da una stagione all'altra avviene attraverso cambiamenti graduali e costanti. Il consiglio è di esserne consapevoli, di imparare a osservare ciò che accade. Ogni volta che vi trovate all'aria aperta, prestando attenzione a come i diversi habitat si trasformino. Le temperature che si abbassano e poi si rialzano avranno conseguenze diverse per ogni zona. Immaginate cosa accade sulle Alpi, ad alta quota, con le prime nevicate. E poi immaginate cosa accade nello stesso periodo sulla costa, in una foresta mediterranea. Dopo aver letto queste pochissime pagine di questo libro, Valeria Margherita Mosca, la natura è la mia guida, viene sicuramente voglia di partire per un'avventura alla scoperta della natura. Quindi sappiate che attraverso questo libro potrete imparare tutti i segreti delle piante selvatiche, si possono conoscere le caratteristiche di ogni habitat in modo tale da sapere come affrontarlo, come muoversi, come esplorarlo e come goderselo poi al massimo. Ma come sempre la parola la lascio a voi che il libro lo avete già letto con tutte le vostre recensioni. Silvia scrive, bellissimo libro per bambini ed adulti per trovare nella natura la nostra guida e il nostro cibo. Assolutamente da avere. E Bruno scrive, non sono un esperto di foreging ma molto spesso con mio nonno lo praticavo. riscoprire questo libro mi ha fatto ritornare ai bei tempi e voglio ricominciare a farlo. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Ribarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bioshop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine per seguire il nostro podcast Ricomincio da tre e scoprire gli altri libri del cambiamento il link è macrogo.to slash podcast e noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.